Musica Ci troviamo all'istituto alberghiero Carolo Voettila di Catania dove si sta avvolgendo un notevole meeting che è organizzato da Intesa San Paolo che ha siglato un accordo per il progetto Resta Sud anche con l'ABI che è l'associazione banche italiane e appunto Invitalia e qui abbiamo la presenza importante di Pierluigi Monceri che è il direttore regionale per quanto riguarda la Sicilia, Sardegna e Lazio è attivissimo in questo progetto perché è un progetto rivolto ai giovani per sviluppare la loro imprenditorialità e anche innovazione i giovani che vanno dalla fascia d'età dai 18 ai 35 anni. Allora, questi giovani riusciremo a trainarli? Che il tema della disoccupazione giovanile sia un tema credo sia ben evidenziato dai numeri. Noi riteniamo che Resta al Sud sia un'iniziativa, non la panacea di tutti i mali ma sicuramente un contributo importante a stimolare chi tra i giovani ha iniziativa intraprendenza e imprenditoriale nel farlo grazie appunto a tutta una serie di facilitazioni che Invitalia offre loro. Noi come gruppo siamo a fianco di Invitalia per supportare e promuovere questa iniziativa proprio con la determinazione che credo contraddistingua il nostro operato. Cosa ha bisogno l'imprenditorialità giovanile? Ma innanzitutto di progetti seri, di progetti che devono avere le gambe della serie una buona base a livello di prodotto o di servizio ma anche la capacità poi di generare valore nel tempo quindi progetti che devono essere sostenuti anche da business plan proprio per dare a chi li mette in campo la consapevolezza di iniziare a fare una cosa destinata a durare nel tempo. C'è una ricetta? Ma la ricetta è quella di investire su se stessi e investire sui processi di formazione. Le persone più formate sono le persone le cui aziende hanno più possibilità di durare nel tempo quindi investire sulla propria formazione credo sia il presupposto per fare in modo che questa iniziativa e questi giovani abbiano un futuro importante. Sempre l'istituto alberghiero Carlo Votila di Catania abbiamo avuto oggi il piacere di avere con noi il vicepresidente della regione siciliana il professore Ghetan Armao che è qui vicino ai giovani e con un caloroso saluto si è rivolto alla platea che veramente dagli sguardi si è potuto capire l'interesse che hanno per questa attività imprenditoriale e quindi il nostro progetto Restar Sud ancora oggi si aggiunge ad un altro valore in più. Sì è un progetto importante il lavoro vero in Sicilia lo può dare solo l'impresa perché è finito il tempo del lavoro intermediato dalla politica, dalle clientele in alcuni casi dalla mafia oggi il lavoro che può auspicare di avere un ragazzo è quello che o da un'impresa che riesce o un'impresa che egli stesso avvia e Restar Sud è uno stimolo, una spinta finanziaria di sostegno e il compito dell'istituzione è quello di sostenere i nostri ragazzi che vogliono intraprendere perché Bill Gates si può essere anche in Sicilia una innovazione si può fare anche in Sicilia raccontavo di due imprese che alla fine della prima decada del 2000 erano sull'oro del fallimento hanno deciso di orientarsi sull'e-commerce, su internet e oggi fatturano 10-20 milioni l'una di euro solo di e-commerce quindi solo di commercio sulla rete c'è una grande e straordinaria opportunità che passa per l'esercizio delle funzioni piene da parte della pubblica amministrazione che deve agevolare e sostenere le giovani imprese ma soprattutto da strumenti finanziari che sostengono i giovani capabili, dinamici, laboriosi siciliani che possono innovare, esportare, produrre e far sì che la Sicilia trovi imprese siciliane che competano Catania, lei durante il suo discorso ha detto che la Sicilia, Catania è importantissimo ed è fulcro al punto di vista anche del digitale Sì, Catania ha avuto sempre una capacità imprenditoriale che l'ha contraddistinta sul territorio regionale e questo è fuori discussione la prospettiva è quella delle zone economiche speciali con il Presidente Musumeci stiamo lavorando proprio in questo senso per rafforzare, far partire le zone economiche speciali come aree dove è più facile intraprendere perché c'è un regime fiscale agevolato e quindi si può essere più competitivi sui mercati la Sicilia è al centro dei collegamenti dei grandi dorsali internet del mondo questa è una grande opportunità per proiettarci sulla zona economica speciale della digitale in modo da far sì che la Sicilia attraverso il digitale possa competere è un ragazzo che fa impresa a Catania o a Belpasso è come se fosse sulla quinta strada a New York perché se è collegato con una rete efficiente non c'è nessuna differenza sul piano della capacità di vendita Noi perdiamo ogni anno 25.000 giovani 25.000 giovani con un valore che equivale a circa 5 miliardi di euro al netto della perdita di energie, capacità, innovazione perdiamo 5 miliardi di euro l'anno se ne prendiamo in 7 anni circa 7 dai fondi europei capite bene che la perdita è assoluta dobbiamo invertire la tendenza dobbiamo far sì che il nostro primo obiettivo è fermare questa emorregia di giovani capaci dalla Sicilia e questo è il compito e l'impegno del governo regionale musulmaneschi Anche il mondo universitario oggi partecipa a questo bellissimo progetto resto a sud e infatti la sinergia è tra scuole, università e imprese abbiamo qui il rettore dell'università di Catania il professore Francesco Basile che vuole anche lui in questo momento una testimonianza e appunto vuole spiegare come avviene anche questa sinergia Sì è un momento importante perché i ragazzi vanno ben indirizzati non bisogna pensare solo alla loro formazione in questo caso formazione scolastica non bisogna pensare solo alla formazione universitaria ma anche alle possibilità di occupazione cosa c'è di meglio che cercare di introdurli nel mondo del lavoro con delle iniziative quali questa resto al sud per le regioni del sud con imprese e istituti bancari alle spalle con il governo nazionale alle spalle con la possibilità di avere dei prestiti a tasso zero in maniera da poter intraprendere delle attività lavorative delle start up lavorative e che possano poi dare un proseguo di vita occupazionale ai nostri giovani Io credo che l'università debba essere parte nevralgica di questo processo debba collaborare con le scuole in primis e con le altre istituzioni e con le imprese e le istituzioni bancarie in maniera da riuscire a rendere più facile questo percorso ai giovani a spiegarlo bene a far capire quali sono le grandi possibilità che in questo momento, grazie a questa iniziativa vengono offerte ai ragazzi del sud Il dirigente scolastico dell'Istituto Alberghero Carlo Vettila di Catania la dottoressa Daniela Di Piazza che ha voluto fortemente questo convegno al resto al sud per dare un'opportunità ai giovani di conoscere quali sono le modalità e le possibilità di potersi inserire nel campo dell'attività dell'impresa Sì, ritengo che questa iniziativa siglata tra Banca Intesa e Invitalia sia un'opportunità molto stimolante per i nostri giovani in uscita perché è rivolta agli studenti che hanno da 18 anni in su proprio per dare opportunità di fare impresa e proprio il titolo il resto al sud è la metafora di una volontà legata alla necessità di avere i nostri giovani qui nella nostra terra e che questa diventi produttiva dunque fare impresa e so che ci sono appunto dei finanziamenti per appunto i giovani che vogliono fare impresa grazie a questo progetto finanziamenti interessanti che mi sono stati esposti dunque ho ritenuto appunto di accogliere questo evento per le scuole e qui nella nostra sede di Via Lizio Bruno per promuovere ancora una volta un pieno inserimento nel mondo del lavoro dei nostri studenti ritengo che questo sia soprattutto per gli istituti professionali e tecnici un valore aggiunto da offrire ai nostri giovani ci fra questi illustri personaggi che appunto stanno intervenendo in questo bellissimo chiamiamolo anche progetto resto al sud abbiamo anche il dottor Di Gennaro Michele che è responsabile marketing per la regione Lazio, Sardegna e Sicilia allora il perché di questa iniziativa? Innanzitutto buongiorno a tutti l'iniziativa parte da una norma del governo che facilita appunto l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro quindi stimola, dà il supporto con un aiuto finanziario ma direi anche un indice uno strumento, uno stimolo a quello che vuole essere appunto l'inserimento dei giovani e la valorizzazione del territorio proprio dove loro sono nati e vivono questa iniziativa ovviamente parte dall'assunto che il giovane è considerato comunque come l'anima vitale il punto focale di quello che sarà appunto il ricambio generazionale e quello che sarà appunto l'evoluzione socio-economica del contesto non solo di riferimento locale ma anche quello nazionale Quindi sarà una grande opportunità e quindi con tante positività ma le modalità per accedere ai giovani ecco un po' velocemente oggi se ne sta parlando Le modalità sono semplici molto peraltro intuitive basta comunque rivolgersi a una delle nostre filiali sul territorio in Tesa San Paolo comunque ha una presenza capillare qui sul territorio peraltro anche nella recente acquisizione di Banca Nuova si rafforza ancora di più il tessuto proprio imprenditoriale tramite il supporto di questa grande banca è importante comunque diffondere questa opportunità perché a volte ci sono gli strumenti ma non sono conosciuti con questa iniziativa che stiamo facendo sul territorio è volta proprio alla conoscenza ai giovani che saranno coloro i quali saranno i maggiori fruitori di questa opportunità e perché non coglierla RSA Villa Maria Leonforte convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale